EstraEnergie, società di luce e gas, ha 170.000 clienti in più. La società del gruppo Estra si è infatti aggiudicata alla fornitura, da aprile, di energia elettrica in Calabria e Basilicata e nei comuni di Bari e Taranto. Sono stati più di 100 i dipendenti del gruppo Estra che con il progetto Piccole e grandi azioni di sostenibilità permetteranno alla Multi Utility di sostenere interventi di forestazione urbana. Anche Montespertoli, il comune del Chianti Fiorentino, ha due nuove postazioni Estra per la ricarica dei veicoli elettrici. Le postazioni, attive H24, forniranno fino a giugno la ricarica gratuita dei veicoli. Anno nuovo, rassegna nuova, nel segno del divertimento intelligente. Dal 10 febbraio al 4 maggio al Politea Mappratese c'è Ridere sul Serio, la rassegna di quattro spettacoli sponsorizzata da Estra.